sempre più difficile, bastava quello che avevamo fatto fino a qua per dirla in un certo modo adesso però cerco di dare una spiegazione un po' più costruita dell'operazione che abbiamo fatto con questa cosa che abbiamo chiamato x quadro che è un'operazione che è molto comune in statistica e che appunto riguarda la scelta dei parametri migliori in realtà la pariabile che abbiamo chiamato prima x quadro ha in statistica un nome diverso, simile, come vedete la lettera è simile si chiama chi quadro, quello è un chi greco chi ha fatto il liceo classico? nessuno ha fatto il liceo classico quello in realtà è un chi elevato al quadrato allora supponiamo che i nostri dati, gli x, siano distribuiti abbiano una certa distribuzione per esempio abbiano una distribuzione che abbia media 0 e varianza 0 allora possiamo andarci a chiedere qual è la distribuzione di una nuova variabile che costruiamo che è la somma dei quadrati di questa variabile costruita facendo 5 campioni, per esempio k campioni di questa variabile cioè ho una serie temporale, tanti valori della mia variabile in questo caso sono il... non sappiamo ancora che cos'è è una certa variabile, lo vediamo dopo che cos'è prendiamo questa variabile, la eleviamo al quadrato se questa variabile compare in 5 realizzazioni supponiamo in k realizzazioni, sommiamo questa variabile ottengo una nuova variabile, q com'è distribuita questa nuova variabile, q? questa variabile, q, è distribuita appunto con una certa secondo una certa distribuzione che si chiama distribuzione del chi quadro la storia... l'unico parametro che compare è k il numero di elementi che sommo se k è grande questa variabile tende ad essere una gaussiana quanto grande? se k è più grande di 7 e 8 è quasi indistinguibile da una curva gaussiana però tende ad essere asimmetrica un po' questa tipica ha una storia simpatica se vogliamo questa curva di distribuzione perché fu trovata da un certo statistico che lavorava per la Guinness la ditta che fa la birra Guinness nel contratto che aveva con la Guinness era scritto che lui non poteva pubblicare nessun risultato che non fosse improprio qualsiasi cosa, chissà come mai c'era questo tipo di... qualsiasi cosa avesse fatto doveva essere sempre pubblicata a nome della Guinness per cui questo statistico si firmò con il nome dello studente con un pseudonimo per poter pubblicare i risultati che andava descrivendo la distribuzione del chi quadro ha una forma abbastanza complicata che non pretendo che voi adesso vi ricordiate in questo modo ma magari... ed è 1 diviso 2 alla k diviso 2 per una certa funzione gamma di k diviso 2 moltiplicato per x dove x è la variabile elevato alla k meno 2 meno 1 per e alla meno x mezzi io non me la ricordo e la devo sempre leggere so che esiste, so che ha certe proprietà dopo nella mano ho scritto il nome e l'espressione analitica della funzione è 0 per x minore di 0 la sua comunque, la gamma grande questa è una gamma, siccome nessuno di voi ha fatto il liceo classico questa è una funzione gamma minuscolo e questa è una funzione gamma maiuscolo direta la funzione gamma maiuscolo come vedete dipende da un solo parametro praticamente è il k quella lì si chiama gamma completa nella slide successiva la vado a definire è una funzione estremamente, in senso generale la funzione gamma è una funzione importantissima perchè compare per varie ragioni un po' dappertutto la funzione sopra che ha due parametri, due slot se vogliamo uno è il parametro k e l'altro è la variabile che è la x si chiama gamma incompleta la funzione gamma allora di s e z dove s è il parametro e z è la variabile in realtà è definita attraverso un integrale che è l'integrale tra 0 e z di t alla 6s-1 per e alla meno t in t chi di voi è bravo a fare gli integrali indefiniti ad analisi 1? nessuno? tutti schiappe ad analisi 1? beh, questo integrale costruisimo costei probabilmente una costei si dovrebbe ricordare che questo tipo di integrali questo tipo di funzione non è integrabile però questa funzione qua compare così tante volte in tantissimi rami della fisica, dell'ingegneria, della statistica che alla fine per semplificare le cose le si è dato un nome appunto gamma incompleta dopodiché ci inventiamo un modo per calcolare quell'integrale lì approssimandolo lo stesso se ci pensate bene vale per l'esponenziale e i logaritmi il logaritmo di x noi non ci portiamo il problema di come si calcola il logaritmo di x però se ci dessero solo una carta e una penna non sapremmo quindi per lì calcolarlo è così l'esponenziale dobbiamo trovare gli accorgimenti però il nostro calcolatore portatile, il nostro cellulare lo sa fare e allora lo usiamo per fare questo accordo lo stesso accade per questa fusione gamma quindi adesso da dell'ora in poi poi oltre al logaritmo e all'esponenziale avete nel vostro carnet delle funzioni trascendenti anche la funzione gamma che è definita così è una funzione di distribuzione nel senso che il suo integrale fra 0 e infinito cioè no, il suo integrale in s è uguale a 1 la funzione gamma completa l'integrale fra 0 e infinito il chi quadro appunto è una funzione che è in qualche modo una restrizione delle funzioni gamma che ha questa forma qua dove vedete disegnata la funzione in chi quadro per vari valori di K questo è un variabile che si chiama gradi di libertà K uguale a 1 vedete è una iperbole K uguale a 2 è un esponenziale K uguale a 5 che sarebbe il nostro caso è quella magenta e una cosa interessante che è descritta nella slide successiva che è una curva per K maggiore di 2 è una curva unimodale per K e in particolare la moda cioè il massimo si trova al valore K-2 quindi K uguale a 3 è il massimo per l'ascissa uguale a 1 K uguale a 4 è il massimo per l'ascissa uguale a 2 e K uguale a 5 è il massimo per l'ascissa uguale a 3 questi sotto sono gli integrali delle curve di sopra poi come su tutte queste cose noi saremo in grado di calcolarlo beh qui ci sono dei risultati che anticipano a quello che io già vi ho detto e cioè che in fondo noi delle distribuzioni beh ci interessa la forma funzionale della distribuzione di probabilità e di verificare che è l'integrale rispetto alla variabile su tutto il dominio e faccio 1 ovviamente e poi se possibile ci interessano che cosa? beh l'abbiamo in pratica già visto nelle lezioni scorse ci interessa il valore atteso ci interessa la varianza ci interessa qualche momento di ordine superiore per esempio per applicare il metodo dei momenti nel caso volessimo usare questa distribuzione per interpolare un insieme di dati in particolare qui questa curva ha la media e la varianza che sono note in particolare il valore atteso è K la varianza è 2K la moda invece è pari a K meno 2 se K è maggiore di 2 qual è il senso di questa distribuzione? ve l'avevo anticipato già all'inizio beh il senso di questa distribuzione guardate quello che era il nostro x quadro di prima il nostro x quadro è abbiamo preso 5 gruppi di valori K gruppi di valori per ognuno dei valori abbiamo fatto la differenza tra quello che abbiamo osservato e quello che attendevamo in quell'intervallo abbiamo elevato al quadrato e diviso per il valore atteso beh questa variabile qua ha proprio le caratteristiche che cercavamo dell'x quadro che avevamo messo all'inizio nella prima slide di questa serie di slide e quindi la somma di questa variabile qua si distribuisce in realtà come il x quadro quando noi andiamo a costruire il test di Pearson la variabile che otteniamo quella che precedentemente avevo chiamato x quadro si va a distribuire secondo la distribuzione del x quadro che cosa succede allora? beh, questa è una distribuzione del x quadro qui i gradi di libertà è 1 mi pare o 2 osservando dove è la moda beh, intanto io prima vi dicevo beh, i nostri dati sono tanto più esatti quanto più l'x quadro è uguale a 0 x quadro è uguale a 0 però dovrebbe dire che sono qui la distribuzione del x quadro invece ha un massimo in questo caso a 3 la vedevo male e quindi questo è k uguale a 5 cosa vuol dire? vuol dire che sebbene la distribuzione migliore sia quella che mi dà x quadro uguale a 0 se io ripetessi tante volte il mio esperimento che invece ho fatto una sola volta l'x quadro l'ho calcolato una sola volta però posso immaginare di ripeterlo tante volte cioè vi prendo già è complicato calcolare una volta sola immaginate di avere 100 campioni come quelle per cui l'avete calcolato ripetere l'operazione e poi calcolate la distribuzione degli x quadro non la distribuzione degli h è la distribuzione degli h quadro beh la distribuzione tenderebbe di essere quella lì e la distribuzione più probabile non è quella che ha l'x quadro uguale a 0 ma è quella che ha l'x quadro uguale a 3 in questo caso un'altra considerazione che possiamo fare è dire beh adesso posso se io ho dei valori osservati e dei valori attesi posso dire che i valori osservati e i valori attesi sono la stessa cosa o no? cioè so che ho degli errori quando faccio delle misure quando applico delle procedure empiriche adesso quindi questa cosa qua mi dà uno strumento per capire se l'osservato e l'atteso li posso considerare simili anche se sono leggermente differenti allora supponete che il nostro x quadro t quadro mi cada in questa zona che ho segnato in grigio che cosa mi rappresenta quella zona che ho segnato in grigio mi rappresenta la probabilità che la probabilità che l'x quadro sia nel 5% quantile più alto si dice che il mio valore di chi quadro in questa distribuzione ipotetica che dovrei ottenere dei miei x quadro ma io sono sempre uno sia la maggior parte dei risultati li ho a sinistra un 5% dei risultati che evidentemente stanno nella coda nella mia distribuzione ci sono due modi per avere un valore elevato di x quadro qui entra il ragionamento uno che effettivamente i miei dati siano distribuiti secondo la distribuzione i miei dati osservati siano distribuiti secondo la distribuzione che mi ero immaginato cioè la distribuzione di Google quando avevo fatto osservati in meno misurati e abbia beccato un camione particolarmente sfortunato che cade nel 5% più alto sono stato sfortunato ho fortunato ho ottenuto un campione che si discosta diciamo dalla media perché il suo x quadro rispetto al valore che mi aspetterei è lì in quella zona grigia oppure l'altra ipotesi che posso fare è che in realtà il mio campione è ovviamente rappresentativo ma i dati non sono distribuiti secondo Goombel nel nostro caso o qualsiasi altra distribuzione perché se poi tornate indietro nella procedura e a Goombel sostituite un'altra distribuzione anche se quindi distribuzioni ne abbiamo ben vista ben contemporanea cioè Goombel è quella dei dati originali la distribuzione del pi quadro che è questa disegnata è la distribuzione gamma della cui quella del pi quadro si origina allora di solito per convenzione in statistica quando tengo un chi quadro alto rigetto l'ipotesi che le due distribuzioni quella dei dati empirici e quella che io ho ipotizzato siano uguali e quindi dico i miei dati non sono distribuiti secondo una curva di Goombel allora in che caso ci troveremo avremo costruito una curva di Goombel anzi ne avremo costruite tre ne abbiamo scelta una migliore di tutte questa curva di Goombel però da un chi quadro elevato ma vuol dire che i dati non sono distribuiti secondo la curva di Goombel in realtà non è una decisione che io posso prendere è una decisione convenzionale questa perché ho deciso che se il chi quadro è più alto del 95% sta in quella zona grigia che mi avevo segnato prima allora prendo la responsabilità di dire che le due distribuzioni non sono la stessa però invece non sono del tutto sicuro allora si dice che il grado di confidenza è del 5% potrei aver scelto un grado di confidenza del 1% se avessi scelto il 99% se avessi spostato la zona grigia più in là morale della favola la statistica non è in grado di distinguere il vero dal falso in modo certo però gli statistici si sono accordati su alcune diciamo affermazioni convenzionali cioè che per esempio una serie di dati non sia distribuite secondo la curva che si è ipotizzata se il chi quadro è superiore sta nella zona grigia ovvero è nel quantile del 5% del quantile superiore della curva una volta 5% superiore vuol dire che questo evento mi capo a capitare una volta su 20 non è così raro in effetti noi quando andiamo a studiare i tempi di ritorno studiamo eventi che sono 1 su 200 1 su 100 quindi in realtà questa struttura convenzionale del ragionamento che ci diamo non è così cioè l'evento che noi andiamo a scartare non è così raro ecco potremmo andare a scartare una possibilità che invece è corretta ma cadeva nelle cose giuste diciamo però abbiamo applicato una almeno una questione convenzionale dunque la statistica non può distinguere qui il vero dal falso però attraverso una procedura che quella è sia rigorosa matematica mi consente di prendere delle decisioni c'è una decisione fondamentale che ho fatto che è quella di usare come zona grigia nella mia distribuzione del chi quadro solo il 5% superiore è una scelta soggettiva quindi quello che faccio è in generale vado a considerare la probabilità di superamento di un certo valore critico in particolare chi di quadro sia il valore più grande del chi squadro critico questo chi squadro critico non lo conosco all'inizio ed è uguale a c solitamente c lo metto uguale a 0,95 anzi a 0,5 scusate se non ho la probabilità lo schiedo così se fosse minore del critico sarebbe 0,95 ma p maggiore del critico 0,5 la p è invertibile e mi trovo il valore critico che mi separa dalla zona bianca nella zona grigia allora se il mio x quadro è più grande del valore critico rigetto l'ipotesi che i miei dati siano distribuiti secondo la curva di Bumbell o qualsiasi altra curva che avessi usato altrimenti la prendo lo so che questa cosa mi può sembrare complicata in un certo senso lo è dovete rifletterci su un attimo non applicate questi argomenti di statistica in particolare questa parte da parte di un capitolo molto ampio che si chiama test delle ipotesi in statistica si fa di solito questa ipotesi zero tradotta in italiano ma in inglese è ipotesi cioè si dice in anzi tradotta in italiano come ipotesi nulla perché in inglese si dice nulla ipotesi in realtà sarebbe l'ipotesi zero la nostra ipotesi zero quindi qual'era che i nostri dati e la distribuzione di Gumbel in questo caso che i dati fossero distribuiti secondo la distribuzione di Gumbel se l'x quadro è minore dell'x quadro critico posso tenermi l'ipotesi come vera però in le statistiche siccome si vogliono fare le cose contorte si dice non posso rigettare l'ipotesi una specie di doppia negazione e va bene